Vigilia di campionato per il Lecce di Marco Baroni, pronto alla sfida contro l'Udinese per l'anticipo del venerdì del campionato di Serie A. Reduci da due sconfitte, i giallorossi cercheranno alla Dacia Arena di invertire il trend negativo. Noi siamo la migliore delle ultime undici in classifica e siamo la nona miglior difesa del campionato. E' chiaro che dobbiamo assolutamente trovare un maggior coinvolgimento offensivo collettivo. E' chiaro che per fare questo occorre anche del tempo perché già in questo tempo che abbiamo avuto aver trovato comunque un equilibrio, una compattezza difensiva secondo me è qualcosa che dà merito a questi ragazzi. Sull'impiego di modulo e uomini dopo la sconfitta subita contro la Juventus, Baroni sembra già avere le idee chiare. Voglio tenere tutti assolutamente pronti e motivati e quindi in questo momento con partite così ravvicinate è anche giusto che ci sia qualcuno che magari in questo momento ha morso un po' il freno e ci possa dare il suo contributo. Quindi non escludo da questo punto di vista.